L'inchiesta conoscitiva a Palazzo dei Normanni sulle spese dei gruppi prossima ad essere a carico di noti. Quattro parlamentari pizzicati dalla Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza prima è stata ricevuta a Palazzo d'Orlean dal presidente della regione appena eletto Rosario Crocetta. Poi è stata più volte in visita a Palazzo dei Normanni a spulciare tra carte, ricevute, biglietti, manoscritti e fatture. Una comunicazione di notizie di reato sarebbe in procinto di essere comunicata a carico di Francesco Musotto, Rudy Maira, Antonello Cracolici e Giulia Adamo. Al momento sono solo denunciati e presto forse saranno iscritti nel registro degli indagati per peculato. L'inchiesta sugli sprechi dei fondi dei gruppi parlamentari assale anche l'Assemblea regionale siciliana navigando sull'onda dello sperpero di denaro pubblico che ha spazzato via come uno tsunami altre regioni, ad esempio il Lazio. Le fiamme gialle indagano da settembre, prima a modello 45, quindi un'indagine conoscitiva, senza ipotesi di reato e indagati. Adesso forse l'inchiesta sarà a carico di noti. Nel corso della precedente legislatura, Adamo, Cracolici, Maira e Musotto sono stati a capo dei gruppi di Udici, PD, PIDE ed MPA. Ai quattro parlamentari, tutti ex, tranne Cracolici che è stato rieletto, sarebbero contestati alcuni episodi specifici. Vi sarebbe traccia di un pagamento eseguito da Giulia Adamo, oggi sindaco di Marsala, che non rientrerebbe nell'attività parlamentare. Una spesa di 1.690 euro che sarebbe del tutto ingiustificata. Poi Antonello Cracolici, lo scorso 13 luglio, avrebbe pagato con i 2.500 euro un regalo di nozze ad una dipendente del gruppo. Poi vi sono 51.000 euro che sarebbero stati prelevati da Francesco Musotto. E lui avrebbe girato 45.000 euro a Raffaele Lombardo e altre migliaia di euro ad un senatore del Movimento per l'Autonomia, giustificando ciò come genericamente rimborsi spese. Poi vi sono circa 40.000 euro con cui Rudy Maira, oggi segretario regionale del cantiere popolare, avrebbe pagato le rate del leasing per un'automobile Audi A6 che, secondo la Guardia di Finanza, avrebbe utilizzato in maniera esclusiva e personale. Anche le fatture emesse dalla società leasing sarebbero intestate a lui, perché professionista e titolare di partita IVA. Inoltre a Rudy Maira sarebbe contestato un bonifico da 2.000 euro a favore di una gioielleria di Palermo. Il pool di magistrati impegnato nei reati contro la pubblica amministrazione, capeggiato dall'aggiunto Leonardo Agueci e al lavoro al Palazzo di Giustizia. Il Parlamento siciliano è il più ricco di Italia, con una dotazione di 170 milioni di euro e dei 170 quasi 13 milioni all'anno sono destinati ai gruppi.